Noi a Roma vogliamo vincere e tutti quelli che in questi mesi, anche tra gli alleati, mi hanno chiesto di scendere in campo, sanno bene che è una possibilità assolutamente alla nostra portata, che che se ne dica in queste ore. Io semplicemente voglio fare tutto quello che posso fare per non regalare la mia città né a quelli che l'hanno massacrata fino ad ora, né tantomeno al distruttivo qualunquismo del Movimento 5 Stelle. Vorrei che ci fosse la possibilità di costruire una storia diversa e se non lo può fare nessun altro lo farò io. Certo non lo farò da sola, lo dobbiamo fare insieme. Allora voglio fare un appello a Matteo Salvini, a Silvio Berlusconi, a tutto il campo del centrodestra. Aiutatemi a non lasciare Roma nelle mani di quelli che l'hanno ridotta come oggi, aiutatemi a non lasciare Roma nelle mani dei 5 Stelle.